Salve, oggi in questa mia nota vorrei denunciare non una sola problematica che attanaglia tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, ma bensì diverse problematiche. Inizierei da quella della sicurezza nei luoghi di lavoro perché non è possibile ancora continuare a parlare e continuare a commentare e non passare ai fatti, quindi non è possibile che ci debbano scappare sempre i morti per ricordarci che ci sono tantissime problematiche da risolvere in particolar modo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sappiamo tutti che esistono aziende che non rispettano le norme della sicurezza, la sicurezza l'abbiamo detto non è un opzional, quindi sulla sicurezza vanno fatte degli investimenti mirati ma abbastanza consistenti perché bisogna naturalmente partire dalla formazione e poi dall'informazione per fare in modo naturalmente che i lavoratori non si trovino impreparati rispetto a quello che naturalmente possa essere l'uso di un'attrezzatura o di un macchinario. Come recentemente è successo naturalmente ci siamo trovati rispetto a delle situazioni nella quale qualche lavoratrice non ha subito la formazione che l'ha messa in condizione di poter operare rispetto a dei macchinari e poi andiamo a verificare se questi macchinari avevano ricevuto giustamente la revisione alla scadenza perché dovevano essere dotati di etichetta nella quale dove sono stati sottoposti ad una determinata prova e poi naturalmente se come ho detto prima la lavoratrice ha ricevuto la giusta formazione e informazione. La cosa importante che si trascura un po' in tutti gli ambienti anche per quanto riguarda quello personalmente che rappresenta il mondo dei trasporti cioè non significa che quando un lavoratore è in possesso di un'abilitazione e quindi naturalmente questa abilitazione viene messa in pratica a diciamo a in alcuni periodi e poi naturalmente non la si continua più. Prima che bisogna che il lavoratore continui a distanza di tempo a mettere in atto quella abilitazione c'è bisogno che naturalmente si faccia un'altra formazione e informazione per fare in modo che non si possa andare incontro a degli fortuni gravi e addirittura a morti come sta succedendo. Quindi verifichiamo che queste abilitazioni se non vengono usate sistematicamente e periodicamente i lavoratori devono essere di nuovo sottoposti a formazione ed informazione o addirittura ad affiancamenti in modo che non vanno incontro a situazioni di gravi incidenti ed infortuni sul lavoro. Questa deve essere la procedura che bisogna adottare da parte dei datori di lavoro. Non è che un lavoratore che alcuni anni fa è dotata di un'abilitazione e poi perché una determinata azienda debba fare delle lavorazioni prende il primo lavoratore che gli possa capitare perché è abilitato a fare queste lavorazioni. Non è così perché se noi tutti quanti noi siamo coscienti che se lavorazioni vengono fatte frequentemente si acquisisce esperienza e naturalmente a quel punto mettiamo in condizione il lavoratore di non andare incontro effettivamente a degli incidenti gravi nel mondo del lavoro. La raccomandazione che mi corre l'obbligo di fare anche ai lavoratori è di non sottoporre mai quindi e di non sottovalutare mai il pericolo perché quando ognuno di noi pensa di essere quello che ha capito coscientemente come si possa procedere e si sottovaluta il pericolo allora si va incontro giustamente a degli infortuni e non è così. Quindi prendiamo giustamente è in modo cautelare quelle che sono le orazioni però dipende anche lo ripeto se tutto questo succede anche perché i datori di lavoro non sottopongono ai lavoratori in possesse di abilitazioni e quant'altro nel momento in cui a distanza di tempo non hanno più adoperato quei macchinari ad una formazione ed informazione. Quindi non è possibile ascoltare dalla classe politica e bisogna mettere mano per evitare le tante morte sul lavoro. Veramente questo è una vergogna continuare a sentirlo perché lo sappiamo tutti quanti siamo uno dei paesi che conta e vanta il numero più alto delle morte bianche. Abbiamo una media come ho avuto modo di dire precedentemente di tre morti al giorno e quindi non è più tollerabile nel modo più assoluto continuare in questo modo. Ci vogliono norme più severe naturalmente andare a rivedere il decreto 81 2008 nella quale debba prevedere sanzioni molto più severe da parte dei datori di lavoro che non applicano quelle che sono realmente le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Voltiamo pagina. Un'altra ingiustizia alla quale ho voluto e mi cuore l'obbligo di intervenire è per quanto riguarda la cosiddetta pensione di reversibilità. Non ho visto nessuno, dico nessuno, assolutamente forza politica soffermarsi su questa problematica molto delicata della previdenza. Cioè non è possibile che se viene a mancare uno dei due coneggi l'altro che resta debba usufruire di una pensione del 60%. Cioè questo significa gettare infame, dico infame, giustamente in disagio economico l'altro coneggi che resta addirittura con un peso familiare. Ma come si può accettare una logica del genere che fino a questo momento è andata avanti? Quando poi siamo a conoscenza naturalmente che alcune categorie privilegiate iniziando dai giornalisti, dai magistrati e chissà quante ne sono ancora, che già percepiscono una pensione privilegiata, poi nel momento in cui uno dei coneggi dovesse mancare l'altro non è che usufruisce del 60%, ma della pensione piena, nonostante già sia privilegiata, ma una pensione piena. Su questo io credo che bisogna metterci mano. Non è più possibile che un lavoratore che ha avuto 40 anni e più di rapporto di lavoro e per sua sfortuna viene a mancare, il proprio conge resta nelle condizioni con il 60% che non può continuare ad andare avanti. Sono questi gli interventi da fare e poi abbiamo i tanti privilegi, questi sono gli scandali, le vergogne italiane e abbiamo tanti scandali che persone che siede per due anni, due anni e mezza su quelle sedie a livello parlamentare ha diritto a tantissimi benefici e anche a delle pensioni che a fine carriera devono prendere. È una vergogna perché un lavoratore che nonostante dopo tantissimi anni di rapporto di lavoro e per sua sfortuna si possa ammalare e viene meno, il proprio conge non sta più nelle condizioni di andare avanti. Quindi è su questo che bisogna intervenire, il 60%. Pensate che poi non è che un lavoratore chissà quale cifra possa prendere come pensione, 1.200, 1.300 eccetera, fate in modo che viene tolto il 40%, il 60%, una pensione di 600-700 per una vedova che a limite possa avere due figli, tre figli e quant'altro come si può per continuare ad andare avanti. È una vergogna che altre categorie interamente debbano usufruire dell'intera pensione anche se scompare il conge, nonostante già godevano di pensione privilegiata. Io credo che sia uno delle più grandi vergogne di questo paese sottrarre il 40% e più ai lavoratori naturalmente che vengono a mancare e quindi il proprio conge debba gettarsi in una situazione di disagio economico. Un'ultima considerazione, e non è una delle ultime, va come mio rispetto al gentil sesso, alle donne che naturalmente poi si c'interoga del perché le nascite in questo paese diminuiscono. Diminuiscono perché c'è una motivazione molto semplice che qua bisogna concordare la maternità con i datori di lavoro che nel momento in cui una donna è in stato di attesa e viene a conoscenza di alcuni datori di lavoro quei datori di lavoro mettono in campo subito provvedimenti di licenziamento. Questa è la vergogna, la vergogna massima. Non è più possibile e tollerabile continuare una situazione simile. Bisogna tutelare la maternità ma soprattutto il rispetto del lavoro per le donne negli ambienti di lavoro che ancora se qualcuno si illude abbiano raggiunto chissà quali traguardi ma ci sono ancora tante altre defaianze da risolvere e da dare parità e dignità al lavoro delle donne che meritano quanto gli uomini. Non è possibile che una donna possa per un periodo non essere neanche a conoscenza che sta in uno stato di attesa nei momenti in cui ne viene a conoscenza ed informa il proprio dodo di lavoro la cosa che gli si aspetta è la lettera di licenziamento. Si usano di tutto e di più tutte le misure. Per fortuna chi al limite possa avere giustamente un rapporto di lavoro con qualche società di grande dimensione può naturalmente mettere in atto tutte le difese di questo mondo. Ma il mio pensiero va a quelle donne naturalmente che lavorano in piccole imprese, in lavoro precaria che non sanno neanche il riconoscimento delle norme contrattuali. La unica cosa che si fa è quella di licenziare la donna in stato di maternità. Una vera vergogna, una vera... come definirla? Non riesco neanche più a trovare le parole perché poi alla fine la classe politica si interroga perché diminuiscono le nascite. Ma perché si è così ipocrita? Perché non si riesce a capire ciò che è la realtà vera nel nostro paese? Abbiamo di questa realtà e su questo che bisogna dare le risposte e non continuare nei propri interessi e alla coltivazione di quei che sono i propri orticelli. Rispondere alle reali esigenze nel mondo del lavoro. E questo lo voglio dire iniziando da me al mondo sindacale che si si gira intorno a questi problemi. Al sindacalismo confederale lo voglio dire che si si gira intorno ai reali problemi. Sono queste le grandi battaglie di civiltà naturalmente che possono veramente identificare le forze sociali. non altro, non cercare di essere quelli che vogliamo peccare di protagonismo o attraverso apparizioni. Le vere battaglie sono queste quelle di civiltà, la tutela del lavoro delle donne, la maternità, le pensioni di reversibilità, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono questi i reali problemi di cui le forze sociali devono farsi carico e non pensare né al protagonismo e né tanto meno agli egoismi individuali. Ripeto, anche nell'ambito di quello che è il mio mondo che rappresenta sono state sempre queste le grandi battaglie, la tutela della salute dei lavoratori che ho sempre messo al centro dell'attenzione delle mie grandi battaglie. E devo dire per onestà intellettuale, lo voglio dire, non è che intorno al sottoscritto abbia trovato tantissimi consensi. Perché vedete, impostare una battaglia di civiltà per la tutela della salute dei lavoratori che per loro sfortuna durante la vita lavorativa hanno contratto patologie particolari e quant'altro e quindi non è facile oggi tutelare questa fascia di lavoratori perché è un peso per le aziende. Non vedono l'ora di liberarsi di questi lavoratori e non è giusto nel modo più assoluto. Queste sono le grandi vergogne, sono queste le tutele che bisogna assicurare ai lavoratori, non altro. Si fanno fino a questo momento solo parole, ma per quello che vi posso assicurare nei fatti ce ne sono ben pochi. E io mi auguro di vero cuore che effettivamente si possano affrontare di queste problematiche perché sono problematiche che caratterizzano un paese, ma soprattutto la dignità, e lo sottolineo, la dignità dei lavoratori. quello che non va assolutamente sottovalutato. Fino a questo momento questo non è stato per niente affrontato. Grazie e buon fine settimana.